Imprenditore cinese arrestato con l'accusa di sfruttamento del lavoro nero e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il blitz dei carabinieri, è stato compiuto a Marciano, dove l'uomo aveva un'azienda tessile. L'imprenditore sottoponeva i lavoratori a turni massacranti, che iniziavano all'alba e proseguivano fino a sera, riconoscendogli soltanto una retribuzione quantificata in pochi centesimi per ogni capo tessile realizzato. Al momento del controllo, nell'azienda sono state trovate nove persone, nessuna delle quali legata all'impresa da un contratto. Durante il blitz sono stati identificati quattro pakistani, tutti dotati di irregolare permesso di soggiorno e cinque cinesi che non avevano nessun titolo per entrare in Italia. L'imprenditore si sarebbe adoperato per organizzare il loro ingresso nel territorio, che gli è costato anche l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività è stata quindi sospesa con l'imprenditore cinese arrestato, sequestrati due capannoni in cui aveva sede l'azienda. A carico dell'uomo è scattata anche una sanzione di 100.000 euro.